Signore e signori, buonasera. Benvenute e benvenuti a questa terza edizione della Sacra Representazione, i Riepene, i Cuntera Passione. Prima di iniziare a presentarvi il progetto, desidero esprimere con tutto il mio cuore i miei ringraziamenti e le mie scuse. Inizio con il ringraziare voi quei presenti al nostro evento. La vostra presenza è davvero preziosa e ci dà tanta forza. Vi ringraziamo altresì per il vostro sostegno economico per la riuscita del progetto attraverso le vostre libere offerte. Ringrazio l'Associazione Trischele nella persona di Moira Fiorilla e di Alberto Trovato per il loro impegno e per la cura di questo meraviglioso Tempio dedicato alla Beata Vergine Maria Consolata. Ringrazio Donnello Garofalo, parroco delle parrocchie Carmine e Santa Maria la Nova e primo custode di questo gioiello sacro. Grazie per avercelo concesso e per la tua presenza. Ringrazio il professore Don Ignazio Laghina che tra poco in breve ci presenterà magistralmente l'aspetto storico e il significato del nome dato alla Sacra Rappresentazione e al progetto. Ringrazio anche i sacerdoti qui convenuti ed in maniera particolare il carissimo padre Francesco Lavecchia priore dei Domenicani del convento di San Domenico di Catania oltre ad essere un carissimo amico e un cultore di arte e musica sacra nonché un eccelso predicatore e teologo. Ringrazio le autorità nella persona del sindaco, geometra Mario Marino e della Presidente del Consiglio Comunale, la dottoressa Angela Desiree Ficili e anche vi ringrazio per la concessione dell'energia elettrica. Il Presidente dell'Archiconfraternita di Santa Maria la Nuova, Angelo Galanti lo staff di Scicli Video Notizie l'Associazione Luce Eblea con il gruppo fotografico i responsabili della pagina I Love Scicli e Martina Pacetto e con gli altri liberi fotografi che immortaleranno i momenti salienti dell'evento. Ringrazio personalmente Alessandra Trovato dell'Associazione Armonia Eblea per l'aiuto prezioso anche di suo marito che ha fatto la croce il consigliere architetto Salvatore Gausarano tutti i componenti del CAS per i preziosi aiuti per i costumi, trasporto, croce, colonna, eccetera. Il progetto nasce nel 2015 avevo 18 anni poiché lessi nel testo redatto da Don Ignazio Lachina dove si rappresentava in lingua locale alcune scene dell'Apassio Cristi. Decisi di abbozzare un canovaccio e così con un gruppo di miei coetani il 23 marzo nella chiesa di Santa Maria la Nuova mettemmo in scena i conti che, bussando di porta in porta andai a registrare dalla viva voce diretta degli anziani della nostra città. Tutto questo nasce e desidero farlo continuare perché le nostre bellissime tradizioni meritano di essere, mi permetto, onorate. Esse formano la nostra identità popolare e ci rendono ciclitani. Oltre a questo le scene che vedremo sono spunto di meditazione e di preghiera così come i simulacri ai quali abbiamo scelto di dare vita. Il Cristo alla colonna l'ecce omo il Cristo con la croce o Signor Tempune lo spasimo di Maria venerati qui in questa chiesa che potete poi vedere negli altari laterali. e anche l'omaggio al venerato gruppo statuario dell'addolorata di Santa Maria la Nova. Tutto questo sarà accompagnato da citazioni musicali e da alcune marce funebri eseguite dall'associazione musicale Pietro di Lorenzo Busacca e Federico Burrometi Città di Scicli diretta dal maestro Girolamo Manenti che ringrazio di vero cuore perché si sono offerti per la collaborazione e per la buona riuscita del progetto anche quest'anno. Vi chiediamo di collaborare quando sarà il momento al rumore dello strepitus del terremoto quando rappresenteremo in maniera uditiva la morte del Cristo. Il nostro cast è composto da Giovanella Scifo Carmelo Trovato che saremo le voci narranti. I personaggi saranno Gesù Sergio di Giovanni Maria La Veronica Claudia Belluardo Giovanni Gabriele Iacono Le Marie Gai Aprile e Grazia Di Martino Le donne Io le trovato Giovanna Zisa Cristina Arrabito Veronica Rosati Mirella Alfieri e Palminà Epiro L'angelo Giulia Causarano I Iuriei Peppe Stimolo e Iosef Alla Giuseppe D'Arimotea Leuccio Calvo I Picciriddi Miranda Rossini Aurora Rossini e Giovanni Stimolo Luci e Service di Andrea Fidone e il trucco artistico di Maria Luisa Tasca Ringraziamo anche i nostri sponsor che vedrete anche nelle nostre locandine e che ringrazierò anche che ringrazierò alla fine Invito gentilmente Don Ignazio Laghina qui a presentarci il progetto Un applauso per Don Ignazio L'applauso alla fine non in principio Ringrazio Amedeo e sono contento di essere qui per il secondo anno Un esempio Allora se ne sei qui per il secondo anno perché il progetto che spero vada avanti anche rimpolpato magari con altri canti altre scene eccetera perché è il tentativo di recupero come lui accennava di una sacra rappresentazione lunghissima come si usava nel Medioevo fino a tutto il periodo barocco che vedeva la chiesa della consolazione al centro di tutta la scena ma che coinvolgeva tutta la città e noi siamo abituati ora a immaginare Santa Maria la Nova come il centro della festa di Pasqua in realtà il centro di tutta la settimana santa e di tutti i momenti in cui si rivevevano le varie fasi della passione del Signore dal giovedì santo sera dalla ultima cena a tutto quello che accadeva nella notte la cattura e poi il venerdì santo la morte la sepoltura eccetera fino al momento della Pasqua era celebrato tutto qua non per nulla nelle varie cappelle noi abbiamo i vari momenti della passione che culminano con il quadro centrale sull'altare maggiore che è quello della resurrezione del Signore e dell'incontro tra il Cristo e la madre Maria Vergine e devo dire che bello il progetto perché ci fa recuperare una identità come lui ha detto ciclitana che a partire dal Cinquecento fino al Mille e Ottocento e ha devo dire ha avuto come esperienza fondamentale il centro di tutta la vita di Scicli girava intorno alla festa della Pasqua e della Settimana Santa e anche se abbiamo avuto la devozione a San Guglielmo alla Madonna delle Milizie ad altre devozioni di Santi non ne abbiamo avuto in fondo il vero centro era qui e il vero centro del cuore della vita di tutto l'anno era la chiesa della consolazione a Scicli che ripeto coinvolgeva perché poi il dramma sacro si svolgeva nelle vie della città fino ad arrivare al momento culmine della crocifissione del Signore nella chiesa del Calvario quindi immaginate e il popolo è bello anche il modo come tu ci hai fatto mettere perché il popolo non si sentiva spettatore ma si sentiva protagonista partecipe e mi avvio alla fine dicendo che che sono i riepani i riepani erano e il modo con cui a Scicli veniva chiamato quello che il latino lui ha detto lo strepitus e quando il venerdì santo mattina i canonici qui riuniti celebravano la morte del Signore nel momento in cui nella frase del Vangelo veniva detto che si fece buio su tutta la terra e si scosse la terra e tremò i canonici battevano con il breviario sugli stalli e con i piedi ma tutta la gente tutta la gente quello che aveva in tasca le grandi chiavi delle case di una volta i ragazzini con le pietre avevano in mano eccetera tutti incominciavano a fare lo strepitus e la chiesa veniva oscurata perché si spegnevano tutte le candele è quello che direi che scenograficamente rivivremo ora e devo dire è un modo come sentirci anche noi non spettatori ma attori coattori immersi in una vicenda che ci coinvolge e il mio augurio è che sia la ripresa non solo di uno spettacolo ma di un momento di vita perché il mio lavoro in fondo che ho fatto lo ringrazio per tutto quello che ha detto di me ma credo che sia bello perché guai a dimenticare le radici della città se si perdono le radici da dove noi veniamo non si capisce quello che noi siamo si perde l'identità della città quindi grazie ad Amedeo ma a tutti quelli che lavorano intorno ad Amedeo grazie ancora e non parlo più perché ci vogliamo godere spiritualmente quello che farete e di cui ci farete partecipi grazie 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 di vero cuore grazie di vero cuore buona visione grazie a tutti 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 Gesù grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti 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 grazie grazie a tutti senza Gesù grazie a tutti 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 tu tu grazie a tutti 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 grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti